segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te tommaso intanto perdonatemi la banalità ma trovo abbastanza surreale la piegatura che sta prendendo questo dibattito proprio di fronte all'arresto di messina denaro perché le intercettazioni che hanno portato all'arresto una parte sono note una parte saranno note si sono svolte con una attenzione maniacale della magistratura all'utilizzo finalizzato all'indagine per cui esse sono preposte sono state fatte intorno a lui non sono uscite minimamente durante l'indagine tutte quelle già note sono finalizzate a circoscrivere persone che compiono reati e che possono individuare il luogo dove un signore capo della mafia che ha preso ergastoli per stragi e omicidi si nasconde tra l'altro c'è un elemento molto interessante che voi svelate che c'è un certo punto un tizio insomma che dice che messina denaro è morto è una persona molto vicina messina lo chiama per dire guarda non ti permette di più dirlo perché lui si arrabbia che tu dici sta cosa e questo per i magistrati è la prova provata che fosse un lavoro straordinario in questa indagine straordinario cioè loro intanto dovevano identificare quest'uomo che cambiava nome nel tempo quindi dovevano individuare qual era il nome con cui si riferivano a lui e non tutte le persone si riferivano a lui con lo stesso nome con lo stesso modo di esprimere lo chiamavano ignazieddu ignazieddu era uno degli ultimi diciamo nomi con cui i fedelissimi lo chiamavano però soprattutto dovevano individuare chi era questo ignazieddu e per farlo hanno sentito ovviamente le conversazioni di persone che sapendo di essere criminali cercavano di non farsi sentire quindi queste intercettazioni a volte sono casuali per telefonini dimenticati per la distrazione di qualcuno o perché qualcuno fingeva di non averli quindi un'indagine dettagliatissima se una di queste intercettazioni fosse uscita sarebbe saltata quindi esiste prima di tutto il rovescio della medaglia quando esce un'intercettazione non è sempre per fare scalpore e anche per rovinare un'indagine quindi credo che i primi che sostengono la necessità del rigore giudiziario nell'utilizzo processuale delle intercettazioni sono proprio quelli che sostengono i pm quindi trovo abbastanza strano che invece oggi sembra che le intercettazioni siano messe lì per fare solo scalpore quando spesso distruggono proprio l'indagine oltre che la persona e anche il magistrato spesso però chiudo rovesciando la questione è anche evidente credo sia evidente a tutti al governo all'opposizione a barbacetto che non considera affatto esponente di un partito ma di un giornale che fa benissimo il suo lavoro su cui si può avere tutte le opinioni del mondo ma in questo paese costituzionalmente è garantita la sua libertà di espressione e ancora di più la libertà di stampa e perché non possiamo neanche immaginare che il trattamento che tu riservi a un capo mafia o a chi gli sta intorno possa essere identico a quello che riservi a un incensurato che magari sospetti di un reato minore è chiaro che nessuno vuole che tutti siano mafiosi quindi portare il dibattito in questa dicotomia è un pochino politicizzarlo troppo e quindi mettere un ministro che ha posizioni garantiste larghe secondo me non solo quelle ma esprime quelle in contrapposizione a dei magistrati che hanno proprio dimostrato che le intercettazioni si possono usare bene con le leggi che ci sono con le normative che ci sono per portare a casa dei risultati giganteschi se noi tornassimo nella normalità e agissimo perché questo avvenga probabilmente sto dibattito si sgonquerebbe un po' esatto